L'emozionante avventure di un bambino dal cuore nobile Ma come osa! E dall'animo gentile Ci penso io a correggerlo a modo mio Capace di trasformare un temibile Conte Allora sei tu mio nipone Vorrei un applauso più noto In un uomo pettino La gente non mi ama, ma lui mi ama teneramente Il piccolo loro Ma ero uno scherzo questo Mercoledì 21 e 15, Rete 4 Tu sarai sempre il mio caro ragazzo Grazie